Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 23 voti favorevoli e 14 astensioni, la legge regionale che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Tra gli obiettivi principali ci sono quelli di favorire la realizzazione di ciclostazione, promuovere il servizio di condivisione delle biciclette e la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggior interesse. La nuova legge prevede uno stanziamento di 1 milione e 60 mila euro per l'attuazione nel triennio 2022-2024. Durante il dibattito in aula sono stati accolti due emendamenti presentati dal principale gruppo di opposizione per rafforzare l'aspetto sportivo della mobilità ciclistica e per precisare che il primo obiettivo degli interventi infrastrutturali dovrà essere quello di una mobilità ciclistica sicura. Innanzitutto sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votato così velocemente, ringrazio la Presidente De Robertis, tutta la quarta commissione per il lavoro svolto. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. Come Fratelli Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili e più in generale alla mobilità sostenibile, con alcune osservazioni che ci hanno portato poi all'astenzione al momento del voto, in particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti ciclo plan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate pur prese in considerazione della maggioranza dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore e infine abbiamo posto la questione sul mobility manager che dovrebbe essere cioè quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali e abbiamo proposto che sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente, mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne e secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Si tratta comunque di un adeguamento normativo che tiene conto anche dell'introduzione nell'ordinamento della città metropolitana che non era prevista nelle norme che in qualche modo, come dicevo, abbiamo salutato con un voto di astenzione e poi vedremo nel proseguo nei prossimi mesi se e come apportare ulteriori correttivi a questo complesso sistema. È logico che siamo a favore però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti due dei quali sono stati accolti quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive visto che loro hanno approvato all'interno di questo emendamento e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica perché ad oggi ad esempio gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX sono tutte persone che hanno l'esigenza anche di sviluppare la loro attività ecco noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire non di attuarlo immediatamente ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno visto che ormai il ciclismo è la seconda fonte a livello proprio numerico per quanto riguarda l'attività sportiva dopo il calcio perciò ritenevamo fosse opportuno iniziare a pensare anche a dei percorsi adatti a questi appassionati agli amanti anche del ciclismo purtroppo sono state bocciate ritenendole probabilmente non congrue a quelle che era questa modifica di legge ci dispiace molto perché poteva essere intanto mettere all'interno di questa modifica, di questa PDL qualcosa che potesse interessare tantissimi cittadini toscani ma questa è una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari penso le ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che introduce nella normativa regionale una disciplina speciale a termine necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR e del Fondo Complementare La disciplina va a semplificare la procedura per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR e del Fondo Complementare Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali dei sindaci che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica non si tratta di nessuno stravolgimento sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea La nostra posizione è di buon senso mediata anche con i nostri rappresentanti sul territorio siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso tanti progetti, tante idee sono state presentate ma poi quelle idee, quei progetti vanno, come si dice, calati sul territorio per farlo bisogna rispettare le norme ebbene la regione toscana negli ultimi vent'anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 cm in regime di vincolo paesaggistico poi ad un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congeria enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica noi su questo non siamo d'accordo così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS la valutazione ambientale strategica soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR che come sappiamo è il Green Deal cioè la rinascita verde dell'Europa eliminando la valutazione ambientale strategica Quando Giuseppe Conte è tornato da Bruxelles con i 209 miliardi del PNRR è stato immediatamente chiaro e ha detto che era necessario spenderli presto e bene la regione toscana partiva avvantaggiata per quanto riguarda lo spenderli bene grazie alla legge Marson, la legge 65 del 2014 che garantiva un'urbanizzazione, una gestione e tutela della qualità del paesaggio e dell'urbanistica ottimali era una legge faro per tutte le regioni d'Italia ma in questi otto anni la maggioranza che è stata al governo e che ha voluto quella legge non è stata in grado o non ha voluto finanziarla dal punto di vista economico e delle risorse umane per arrivare oggi col PNRR appunto a dover riconoscere di non avere le risorse, gli strumenti per poter intercettare presto questi soldi e quindi a cosa si ricorre? A un escamotage si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere ebbene io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare perché superare la valutazione ambientale e comprimere i poteri dei comuni e dei consigli comunali a cercare di analizzare quelle che è l'impatto sui propri territori di queste leggi e di quelle opere cercare di limitare temporalmente la conferenza di copianificazione e addirittura chiedere di derogare a dieci articoli un'intera legge significa scavalcarla e di fatto annullarla questo è quello che è riuscito a fare in questo momento la maggioranza e ne siamo fortemente delusi perché riteniamo che si potesse invece intervenire in maniera migliorativa e che si è persa un'occasione per fare della regione toscana una regione di cui si possa essere orgogliosi per la capacità di valorizzare le risorse che lo ricordiamo ancora il Movimento 5 Stelle grazie a Giuseppe Conte ha messo a disposizione La posizione su una semplificazione per i progetti che dovranno essere fatti sui nostri territori con i finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza chiaramente non ci può trovare contrari quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula è un problema di tipo diverso perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori in particolare noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come penso alle case della salute ma penso anche a tante opere infrastrutturali come organi proponenti che possono essere la regione e lo Stato ma qualora non siano i comuni che i comuni siano parte decisoria, efficace e importante e decisiva di queste opere quindi sicuramente vogliamo che quei 4 miliardi che arriveranno per i progetti del PNR arrivino sui nostri territori vogliamo che questi soldi siano spesi fino all'ultimo centesimo vogliamo che ci sia questo tipo di intervento e che la Toscana sia parte attiva e importante su questi processi ma non vorremmo che queste decisioni passassero sulla testa delle nostre autonomie locali comunali perché sappiamo bene che poi quando si parla di localizzazione di alcune opere ci deve essere il consenso della cittadinanza che lì ci vive Un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni soprattutto quelle finanziate dal PNRR le opere che devono essere realizzate in tempi celi devono avere un procedimento veloce, semplificato, via la burocrazia si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto tanti comuni, tanti enti per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche, sono arrivati i commissari, le opere sono partite questa è la politica che Italia Viva ha sempre fatto, è il motivo per il quale noi con forza votiamo questa legge, consolidiamo la maggioranza fa piacere che anche altri partiti del centrodestra ci vengano vicino a questa posizione e abbiamo trovato una netta distanza con i 5 Stelle questo certifica fondamentalmente una distanza netta di politiche rispetto a quello che a livello nazionale dovrebbe essere un partito che in realtà sostiene il governo Draghi noi siamo coerenti a livello di Roma, a livello di Toscana vogliamo il PNRR, vogliamo gli investimenti, vogliamo velocizzarli ma soprattutto vogliamo fare sviluppo della Toscana, creare ricchezze e arrivare a ridistribuirla In occasione della quarta edizione della Florence Joyery Week è stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzaglio Ciampi in Via De Pucci un'esposizione che ospita 28 oggetti provenienti dalla collezione Bolman una delle più vaste e prestigiose raccolte di gioielli del mondo tra gli oggetti esposti un colbacco realizzato con fili d'oro più sottili di un capello È davvero bello, emozionante, dà l'idea di quella che è la nostra Toscana saper tenere insieme ricerca, tradizione, innovazione e il gusto del bello Entrando qui dopo questo tempo difficile che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo di pandemia tornare a rivedere tante persone, tornare ad emozionarsi per il bello è qualcosa che riempie il cuore grazie ai tanti orafi che hanno prodotto tanta bellezza grazie alla manualità, all'artigianalità di ciascuno di loro grazie alla capacità di saper innovare la Toscana è proprio questo, nel suo segno distintivo, radici, tradizioni che però volano sulle ali del Pegaso portandoci in esperienze totalmente differenti e innovative e allora un grazie per questa mostra, un grazie per aver scelto il Consiglio regionale noi saremo al vostro fianco per quello che sarà possibile e spero che questa sia solo la prima di tante iniziative da fare insieme in questa settimana che porta Firenze ad essere di nuovo capitale capitale dell'arte, capitale della bellezza, capitale del sistema orafo questa è una parte importante perché raccoglie degli oggetti una trentina di oggetti di una collezione privata tra le più prestigiose al mondo e poi c'è un pezzo particolare che forse avete visto che è del maestro orafo Giovanni Corvaia che è un oggetto molto speciale che ha girato soltanto in pochissimi musei però in realtà la settimana ha un programma che coinvolge diversi luoghi, diverse istituzioni e città a cominciare da qui di fronte in Palazzo Medici Riccardi dove c'è la mostra principale dove noi invitiamo per ogni edizione un gruppo di artisti selezionati in base al concetto di quell'anno quindi c'è un curatore che sceglie gli artisti da invitare da lì poi abbiamo un'altra importante mostra nella galleria di Palazzo Coveri dove abbiamo ospitato i vincitori di un concorso internazionale anche quello bandito da noi, organizzato da noi dove ogni anno selezioniamo 5-6 artisti con una giuria internazionale giovani emergenti questo è un progetto che noi portiamo avanti all'85 perché vogliamo dare spazio alle nuove voci del gioiello contemporaneo Sono molto contenta che la Presidenza del Consiglio regionale e il Presidente Mazzeo abbiano accolto questa iniziativa e abbiano deciso di ospitarla in questi spazi del Consiglio regionale perché il gioiello da sempre nella storia dell'uomo, dell'umanità è il segno della nobilitazione del corpo umano e dell'onore che gli esseri umani tributano al loro corpo e al suo abbellimento è una tradizione che è tuttora vivissima piena di innovazione, piena di opportunità anche di lavoro per tanti giovani artisti che in questa si cimentano oggi qui vedremo il meglio e vedremo l'espressione artistica di questa forma di lavorazione dei materiali che in realtà è quella bellezza che arriva vicino a noi perché il gioiello è quella bellezza che ciascuno può portare con sé non vede solo nel museo ma può indossare è un modo per condividere la bellezza che gli esseri umani possono creare celebrarla è un dovere sottolineare il lavoro e l'importanza del lavoro che genera lo è altrettanto e credo che noi facciamo il nostro lavoro quando concediamo spazio a questo tipo di creatività e alla ricchezza che produce per il nostro territorio e all'identità che esprime